La delusione è passata perché sono una persona che subito pensa al giorno dopo, sono un positivo per cui mi auguro che quello che di male abbiamo fatto contro la Juventus sia uno stimolo in più a nostro favore per affrontare una squadra difficile come il Benevento, una matricola che ha stravinto il campionato di Serie B, per cui è in piena fiducia, per cui correranno e presseranno come diavoli. Il vero campionato è iniziato con la Juventus, abbiamo sbagliato la prima, poi soprattutto il primo tempo e dobbiamo far bene, dobbiamo far bene, dobbiamo lottare, perché a prescindere dai sistemi di gioco, a prescindere dai giocatori, io voglio che i miei giocatori lottino, poi la sconfitta uno lo accetta anche, non dico volentieri, ma perlomeno è un pochettino più dolce, meno amara, è questo, io voglio vedere i miei giocatori lottare su ogni pallone, poi sono soddisfatto, poi naturalmente c'è l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico, l'aspetto fisico, l'aspetto motivazionale, ci sono mille altre cose, però per me al primo posto c'è la volontà di lottare e sconfiggere l'avversario, è uno sport e tu devi prevalere, questa è la mia idea, la mia filosofia di allenatore, pure è stata quella di giocatore naturalmente, questo io voglio dai miei giocatori, che lottino dall'inizio alla fine. Gabbiadini sta bene, questa settimana è rientrato nel gruppo, ha fatto gli allenamenti anche se non totali come i suoi compagni, però sono fiducioso e in panchina verrà sicuramente. Per loro inizia davvero perché non hanno potuto giocare, la prima di campionato, sì hanno cambiato, hanno cambiato qualcosina, adesso vediamo se entreranno un pochettino tutti, è una squadra che ho detto prima, ha stravinto il campionato, non era se non ricordo male mai successo in Serie B che una squadra avesse fatto così tanti punti tra la prima e la seconda, per cui dobbiamo stare attenti perché loro viaggeranno sulle ali dell'entusiasmo, nel voler far bene, tutte queste cose qui, ma noi veniamo da una sconfitta che ci brucia molto e dobbiamo far vedere quanto c'è bruciata. La squadra di Pippo Inzaghi fa un 4-3-3 con le ali a piedi invertiti in modo che possano rientrare e essere sempre disponibili per i tagli o per l'azione individuale, alle mezziali che si inseriscono e poi la squadra è sempre molto stretta, come risponderò lo vedremo sul campo. Quello che conta è la risposta, se quello che ho detto è stato recepito e come è stato recepito e lo vedremo soltanto giocando, perché a tavolino siamo tutti bravi, ma poi dopo quello che conta è il campo.